Perché quando sei single non ti si caga nessuno e invece quando sei impegnato tutti fanno la fila? Perché quando sei single ti considerano una sfigato solo perché ti senti solo triste e appunto single, ma quando sei impegnato la gente si ricrede, ritorna in loro la luce, diventa molto invidiosa e a quel punto ti caga di nuovo pensando di farcela, ma senza risultati. Un bacione alla mamma, California e al prossimo video di risposta. Daniele, sei un grande e non riesco a stare un venerdì senza vedere i tuoi video? Ti adoro. California.